Giammarino manca un mese più o meno all'inizio del campionato, il mercato dice che sta venendo fuori un bel Pineto. Come ogni anno il dottor Brocco sta allestendo una squadra importante, forte, Pineto negli ultimi anni ha sempre fatto campionati importanti. Quest'anno siamo partiti, abbiamo cambiato tutto, quasi tutta la rosa, abbiamo ringiovanito, adesso c'è bisogno di un po' di amalgama, c'è bisogno di giocare, c'è bisogno di riconoscersi tra di loro. Roberto, dopo qualche anno l'augurio degli sportivi abruzzesi è che una squadra abruzzese possa tornare a fare la voce grossa in Serie D, tifosi del Pineto si augurano che questa possa essere il Pineto. Noi non ci siamo mai tirati indietro, il Presidente ci ha sempre dato la possibilità di creare organici importanti, poi nel calcio purtroppo si devono allineare tante componenti. Il calcio, ripeto, non essendo una scienza esatta, l'importante è lavorare per arrivare tra le prime squadre, non è facile e ogni anno diventa sempre più difficile. Cinque abruzzesi in Serie D, ce ne potrebbe essere una sesta, l'augurio degli sportivi terramani in particolare. Guardi, io spero che il Teramo faccia parte almeno del girone F di Serie D, adesso ci vuole un po' il coraggio e l'amore dei terramani a cercare di riportare il Teramo almeno in una categoria prossima al professionismo. A proposito di Presidenti, cambiano tanti Presidenti, cambiano tante proprietà, a Pineto c'è una certezza da sempre che risponde al nome di Silvio Brocco. Il Presidente Dottor Brocco è un appassionato che ha vissuto il calcio dagli inizi del Pineto, da ragazzino, ha fatto per tanti anni il Presidente, ama questa società, ama il territorio. Presidente non è che è solo Pineto, il Presidente aiuta tutti, speriamo che non perda la voglia e il suo amore verso il calcio.